Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! O games di tutti hanno però. Com'è? Credo? Carmi tu. Cosa di tutto. Chava tipo dietera? Di tutto questo? Di tutto il tempo. Ci sono contenti con il modo successivo. Dio? Chiaoya? Non, 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 non. Chiazza? Chiazza della loro vita. Chiazza di un po' di nessuna cosa molto, e non ce ne ho tropea. Cosa, non ciò che piacere? Chiazza di un po' di tutti. Il fatto di ogni settimana? La mia stessa di noi non li fitto è... Chiazza di un piacere. Non? C'è da l'anno? Non si stavate L'uomo è il l'euro L'uomo è meglio Che è un'altro Che è un'altro Che è un'altro C'è quello che c'è? Sì 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 Ché Ché Sì C'est un gummy Un ailment Che Ché Ladao è informa che non sia. Non c'è holesi curation. Non c'è il nome non c'è nicopato. E qui è il nome? Ladao è il nome? Il nome è il nome? Noi non c'è il nome? Naruse di potere. Non c'è il nome da l'arco. Sono dei osi tipo di fare, nel remamo. Da, gli con cui troco. I think I'm so scared to they're so incredible that I've never heard of you. I'm going to say you might do anything with Elis. They'll do something with Elis. I'm taking the dog. I thought you hated dogs? i'm taking him let's go puppy just so you know danielle danielle has never blown me i just wanted to make sure that's clear someone give me tori's number who the fuck is that someone hope you know what i don't need anyone to give me tori's number what's tori's last are you cheating on tori with another woman i need a moment i had to do the mature thing i'm gonna make sure that's not just hi there thank you at the end of the day the podrjare me sembra quello eh non il si si Sì, che è stato l'altro? Cosa? Ehm... Mi Kado君... Ehm... 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 ora 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 per 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 alcune alcune una alcune alcune aquilo eric em ok Allergo, ok, you can lock it down, you just have to start the process of the search warrant. Ok, e frame, stand by. Create your warranty. ...a ilaredi una mosca. ...e preoccupise i tui. Idont aver got green vehicles coming up. No, 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 no... ...o pensare, and pre-reparant. ...no, no, no. ...don't you just have like pictures of elitoli? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.